oh ciao Zacca dove hai? mi vieni da una mano con fuorigioco? va bene allora ascolta vieni a fare fuorigioco con me ti aspetta che sono tutto aspetta che va bene allora Zacca basta tagliamo la testa al toro la prima che viene giù la scegliamo per fare la trasmissione la prima che viene giù mi sa che famo un tempo a aspettare la seconda è meglio mi sa che questa è meglio c'è ragione meglio questa